ciao a tutti sto facendo questo filmato che non era previsto perché ho letto un commento su un video passato dove parlavo di open man river in quel filmato che ho fatto anche un po comico facevo metteva in evidenza i difetti di quella distribuzione io sono stato sincero di solito cerco di essere sincero su sulla qualità del prodotto e quella distribuzione non mi ha dato nessun argomento favorevole cioè era un continuo problema ora io il video non lo ricordo proprio esattamente perché non mi vado a riguardare tutti i miei video e quindi ho trovato non mi ricordo esattamente come però mi ricordo vagamente che io ho avuto molti problemi cioè vagamente del proprio no c'è avuto tanti problemi non lo dimenticherò mai difatti open man driver non la scaricherò più neanche per provarla questo significa essere sinceri io ho dato una risposta a questa persona che mi ha scritto che non è neanche un iscritto del canale è stato discreto nel senso che mi ha salutato vi faccio vedere un po l'istantaneo che ho fatto cancellato ovviamente diciamo il nome perché c'è la privacy ovviamente io voglio essere rispettare la persona ovviamente e qua praticamente vi leggo il commento buongiorno mi sto chiedendo quindi buongiorno già è una cosa diciamo educazione buongiorno mi sto chiedendo a quale pro recensire una distro il cui sviluppo è terminato nell'oramai per i tempi informatici lontano 2012 quindi questa persona non so perché pensa che open man driver è terminata nel 2012 open man driver attiva io ho scaricato l'ultima iso che c'era sul distro watch open man driver è la diciamo la è nata dalle cenere mandriva quindi forse lui si riferisce o non ha visto completamente il filmato o si riferisce erroneamente a quella di là e c'è anche mi dice pretendere poi che non abbia difetti come una mint un punto arci mangiaro eccetera aggiornatissime che ho definito delle buone distro aggiornatissime orrora rolling ed enfatizzare questi difetti a mio avviso denota superficialità e scarsa preparazione ricerca ante recensione ora io sono uno che ha poco tempo a disposizione per fare video penso che con tutto che abbia poco tempo non ho un ufficio come morro linux oppure uno studio intero che sia un appartamento come marco palombo non so se sbaglio sempre questo cognome insomma e qui due mostri sacri di per quanto riguarda i sistemi operativi e cose varie informati ora io non ho le potenzialità tecniche di questi due personaggi che penso che siano abbiano degli introiti abbastanza elevati perché ci hanno tanti iscritti e hanno abbonati e cose del genere cioè patreon e tutte queste cose ora io sono uno che non guadagna niente nel mio canale ho un miliardesimo riscritti rispetto a quei due che ho menzionato e quindi non sono padrone di nessuno perché nessuno mi dà dei soldi non monetizzo il canale l'ho detto già tante volte quindi io non ho nessuna pretesa anzi sono uno che ha pochissime pretese perché anche potrei anche potrei anche decidere di monetizzare e poi la carta da 80 a 100 euro mi entrerebbe ma non faccio neanche questo anzi vedo dei youtuber che gli si rompe un disco e dicono agli abbonati che si è rotto il disco e quelli addirittura gli danno i soldi per comprare il disco cosa che io non farei mai perché io non chiederei mai ai miei abbonati di andarmi a comprare un disco perché me lo posso comprare tranquillamente da solo e poi mi sembra anche abbastanza ridicolo andare a chiedere soldi per un disco un hard disk rotto ora a fronte di questi personaggi che sono abbastanza famose e blasonate che poi fanno anche pubblicità subito nei filmati io guardo spesso Morro Linux e Marco Palombo ma ovviamente io noto abbastanza facilmente che i filmati di questi due youtuber sono sotto sotto sponsorizzati perché io non posso non crederò mai che Marco ad esempio Marco Palombo per fare sempre il nome non ce l'ho ovviamente con lui ma io devo fare delle comparazioni con la mia persona ad esempio Marco Palombo è uno che fa recensisce il computer poi ti dice il filmato inizia ho comprato questo portatile lo smonto, lo guardo, mi piace, adesso si inizia insomma di solito la recensione è positiva ora io so esattamente, penso, anzi sono quasi sicuro che praticamente questi computer non sono comprati da lui ma sono computer da sponsorizzare cioè la ditta ti dà quel computer, tu fai finta che l'hai comprato e in quel momento lo recensisce e gli fai una bella recensione lo smonti, gli fai vedere com'è fatto non crederò mai mai che uno abbia tutta questa possibilità di compiare computer ogni 5 secondi e quindi secondo me c'è una certa sponsorizzazione perché? Perché quel canale ha abbastanza iscritti è importante ed è giusto che ci sia la sponsorizzazione ma in quel caso tu sei padrone di qualcuno quindi non puoi essere, non puoi fare, far vedere tanti difetti devi far vedere più pregi che difetti perché sei padrone di qualcuno che ti sta dando la sponsorizzazione io nel mio caso, nel mio piccolo non sono padrone di nessuno quindi sono padrone di me stesso quindi se una cosa non mi piace la dico chiaramente se non mi piace quella distribuzione lo dico se mi piace dico che è una buona distribuzione la consiglio agli altri i miei video non sono io non pretendo di fare la storia di YouTube con i miei video perché vedete che anche la mia telecamera è quella che è, quella del computer sarà qualche pixel mentre quei canali blasonati c'hanno le Canon autofocus e tutte queste cose camere insonorizzate sono una sorta di TV su YouTube io non sono a quel livello quindi non sono padrone di nessuno quindi posso dire tranquillamente che quella distribuzione non mi piace da quello che è scritto qua ci sono errori madornali nel commento perché OpenMand Drive è attiva e non è finita nel 2012 altrimenti non avevi fatto neanche la recensione perché a parte il fatto che poi ho installato dei programmi quindi non si potrebbero neanche installare si era ferma nel 2012 non lo so cosa andate a vedere forse si è visto dal filmatore un altro e vabbè qua e mi dice scarsa preparazione e ricercante recensione io penso di aver fatto il video in modo giusto e dico che non ho tanto tempo non ho tanto tempo di andare a cercare per gli altri come tutti i dati tecnici di una cosa quella me la vedo io e vedo se va bene oppure no il mio hobby non ci sto guadagnando niente io posso capire che si può fare una discussione costruttiva dare dei consigli ma dire che uno è superficiale c'è una scarsa preparazione e così via insomma mi sembra abbastanza diciamo cattiva come modo di approccio è che è un po' cattivo anche se qua mi mette buongiorno e il buongiorno è un po' sarcastico perché se mi dice queste cose mi sembra un po' sarcastico dunque superficiale e poi magari i motivi mi sfuggono se così fosse una replica sarebbe gradita saluti io qua ho tolto tutto per non far vedere la persona io ho risposto OpenMandriva è in pieno sviluppo è attiva da anni forse si confonde con la sua antenata nessuno di voi mi può smentire OpenMandriva è attiva per quanto riguarda i difetti beh ci sono molto marcati non ho nessuna pretesa ma voglio essere semplicemente sincero e non fare pubblicità ad un prodotto come succede in modo subdo in altri ben più blasonati canali quelli che vi ho detto io io non sto criticando né Morro Linux neanche Marco Palombo ma io sono sicuro che non sono liberi come me ormai sono nel mondo del business definire superficiale un video senza averne mai fatto neanche uno nel proprio canale glielo sto dicendo io a lui perché il suo canale è praticamente vuoto quindi andare a giudicare una persona che fa e subisce critiche come quella sua che non sono poi tante costruttive perché è tutta sbagliata la sua critica ed è anche sarcastico nel buongiorno sarebbe gradito una risposta e io la risposta e io la risposta glielo ho data è abbastanza forte glielo ho data definire superficiale un video senza averne mai fatto neanche uno nel proprio canale dico io ed arrogante per non dire altro mi sono fermato qua per non essere troppo cattivo voglio essere educato come lui spero lei le sia stata gradita la mia risposta un saluto buona serata anche io ho detto un saluto e buona serata quindi sono stato abbastanza educato perché questo questo modo di scrivere è un po' radical chic che ti prendono in giro ma nello stesso tempo fanno gli educati mi dà un po' fastidio questi sono i commenti che a me danno fastidio se i commenti sono fatti in modo costruttivo e il saluto è sincero allora va bene ma se questo commento deve essere a doppio senso a me non va bene non sono così fesso da farmi prendere in giro dal buongiorno che c'è scritto qua quindi vi ho fatto vedere il commento appunto che mi ha fatto fare questo video io magari mi ripeterò allora questo canale è è è è è è è un canale diciamo che è come i calciatori dilettanti e poi ci sono i professionisti io sono in un canale dilettante dilettante non significa essere più scarso perché anche i giocatori di Malta riescono certe volte a battere i nostri giocatori italiani che sono professionisti ho visto tante partite dove i dilettanti fanno fare brutta figura ai professionisti che guadagnano un milione di euro io sono uno che modestamente non non mi ritengo inferiore a tanti canali più grossi di me non ho le potenzialità economiche per fare un canale di grande livello e neanche il tempo perché ho i miei problemi anche di salute abbastanza seri io addirittura non dovevi neanche fare video perché di salute non sto tanto bene lo faccio solo perché mi fanno stare bene e poi questi commenti mi fanno stare male io accetto il commento non l'ho tolto io l'ho lasciato ora l'ho scritto poco fa la mia risposta l'ho scritta poco fa ripeto è una persona ripassaggio che mi fa questo commento così abbastanza a doppio senso e niente io ho voluto mettere in chiare il fatto che questo canale non è fatto per farvi giocare con la tastiera ad offendermi questo canale non è fatto per offendere questo canale è fatto per essere chi se la sente seguirlo a chi non piacciono i miei video se ne può andare tranquillamente da Morro o da Marco Palombo che sono molto più diciamo come soldi molto più avanzati di me hanno gli studi fatti apposta per fare dei video sono sponsorizzati e quindi possono fare dei video in 4k o per carità sono bravissime sono sono perite informatici sono gente preparata addirittura Morro è un laureato quindi non posso dire niente nei suoi confronti però non paragonatemi a quei canali perché quei canali per me sono irraggiungibili però ripeto il mio canale è piccolo ma è libero perché i canali sono grossi ma non sono più liberi perché poi il business viene fuori alla grande quando i canali diventano abbastanza grossi e là si deve dare conto a qualcuno che vi deve prestare il computer per recensirlo ovviamente voi dovete fare finta che l'avete comprato dovete magari fare la pubblicità nascosta a qualche software che trovate magari vi dicono tale fammi questa pubblicità insomma io già immagino queste cose perché insomma capita capita a me in passato ai primi tempi mi è capitato che mi ha chiamato uno mi ha scritto uno che voleva recensita la sua distro la sua distribuzione dove parlarne bene invece io non l'ho recensita per niente perché essere pilotato ed essere comandato da un cane io fare cioè da un padrone io fare il cagnolino questo non è cosa mia non è nel mio temperamento io non punto ai soldi non punto a niente io voglio solo stare bene a fare dei video per poter stare bene anche io ripeto io non dove neanche fare video perché non ho una buona salute e chiudo qua il filmato spero che chi ha malintenzione abbia capito che questo canale non è fatto per andare a fare i leoni da tastiere e questo è tutto il mio canale va avanti ma grado queste cose che fanno male e chiudo qua un saluto a tutti da Salvatore ciao ciao